Oggi pranziamo con spaghetti integrali al pomodoro, giusto? Molto giusto. Alla bolognese. Alla bolognese, ah, bolognese, bolognese. Va bene. Il colore dei spaghetti si vede che è scuro perché sono, come ho detto, integrali. Adesso mettiamo il mio piattino. È inutile che vi spiego come sono stati fatti perché ognuno di voi li sa fare. Perciò questo è il mio piattino. Adesso li stiamo imbiattando. Qui ci ha messo pure bostic, parmigiano. Mozzarella è quella, mozzarella. Mozzarella è quella, mozzarella. Mozzarella. Ecco qua. Allora ci mettiamo un po' di sugo. Il basilico. Ecco qua. Ok, adesso possiamo quasi quasi gustarli. Ok. Ok, buon appetito allora anche a voi. Ciao. Ciao. Ciao.